Terra Amara, 14 ottobre. La serata dell'acclamata serie è carica di aspettative. Questa puntata, impreziosita da una trama ricca e avvincente, si preannuncia come una delle più emozionanti della stagione. L'atmosfera si fa palpabile quando Demir, l'indomabile protagonista, si ritrova in un ambiente elegante e intimo per una cena. Al suo fianco ci sono Zuleya e Sevda, due donne di grande carisma, ma con destini intrecciati in maniere diverse. Mentre i piatti vengono serviti e il vino versa le sue sfumature rubino nei calici, un suono stridente interrompe il momento, il telefono di Demir Squilla. Questa chiamata inaspettata, il cui mittente resta per ora un mistero, potrebbe cambiare il corso della serata e, forse, della storia stessa. Nel silenzio che segue, Sevda, la donna dallo sguardo penetrante, osserva attentamente Zuleya. Non serve ascoltare le parole per comprendere ciò che non viene detto. Gli occhi di Zuleya parlano un linguaggio universale. Sevda, infatti, riesce a percepire la tumultuosa tempesta di sentimenti non confessati che Zuleya nutre per Demir. Ma quali segreti nasconde il suo sguardo? In un universo narrativo parallelo, lontano dall'agitazione e dai clamori, dei protagonisti principali, Fekeli emerge come una figura di grande statura e importanza. Questo anziano patriarca, noto per la sua saggezza e per un cuore generoso e gentile, incarnato da un metallo prezioso come l'oro, si trova improvvisamente immerso in un luogo che sembra avere radici profonde nella sua memoria. Il luogo, intriso di un'atmosfera quasi mistica, fa risvegliare in Fekeli una cascata di emozioni, trasportandolo indietro nel tempo. Ogni angolo, ogni pietra, ogni soffio di vento, sembra raccontare le storie del suo passato, ricordi che forse aveva cercato di dimenticare o che erano rimasti sopiti nel profondo della sua anima. Queste rivelazioni lasciano Zuleya incredula e portano con sé una serie di nuovi, intricati interrogativi. Come reagirà Zuleya a queste rivelazioni? Quali sono le reali intenzioni dietro le sue azioni? E, soprattutto, quali conseguenze avrà tutto ciò sul panorama generale della trama? Solo le prossime puntate di Terra Amara potranno svelare i misteri e le tensioni nascoste dietro questi sviluppi. Ma una cosa è certa. Gli spettatori sono in attesa di un viaggio emozionante e ricco di colpi di scena. Al suo fianco, come una compagna silenziosa ma potentemente presente, c'è Zuleya. La sua presenza lì non è un caso. Zuleya, con il suo mistero e la sua aura enigmatica, sembra essere legata a quel luogo in maniere che vanno oltre la comprensione immediata. Come se un filo sottile, quasi invisibile, intrecciasse i loro destini, legandoli in un balletto di circostanze e coincidenze. Camminando lentamente, quasi come se ogni passo fosse un tuffo nel passato, i due attraversano un paesaggio fatto di contrasti, zone d'ombra che nascondono segreti e zone illuminate che rivelano verità. In questo contesto, Fekeli, forse spinto da un impulso interiore o dalla fiducia che ripone in Zuleya, decide di aprirsi e condividere con lei un segreto che ha custodito gelosamente. Le parole che escono dalla sua bocca sono cariche di significato e di rivelazioni. Parla del ritrovamento dei soldi di Yilmaz, una somma destinata a un nobile scopo, quello di sostenere gli orfani, quei bambini che la vita ha privato dei loro cari. Ma c'è di più. Una cifra ancora più grande, 30 milioni di lire, un'astronomica somma di denaro che ha come destinatario Kerem Ali. Queste rivelazioni aprono una nuova dimensione nella storia, portando con sé una serie di domande e di implicazioni. Cosa significheranno queste scoperte per il futuro dei personaggi? E come reagirà Zuleya, ora depositaria di un segreto tanto pesante. La trama si infittisce, promettendo nuovi sviluppi e colpi di scena nel prossimo capitolo della loro avventura. Nell'ombroso intrigo che permea la vicenda, Fikret emerge come una figura subdola e manipolatrice. Sebbene esternamente possa apparire come una semplice partecipante Agili eventi, la realtà è ben diversa. Segretamente, alle spalle dell'ignaro Demir, Fikret intreccia una tela d'inganno con Umit. Il duo, unito da un obiettivo comune, sta elaborando un astuto piano che ha il potenziale di cambiare il corso della storia e delle relazioni tra i protagonisti. Il cuore oscuro di questo complotto ha un unico obiettivo, smascherare Demir, facendolo apparire agli occhi del mondo come un uomo dall'animo volubile e infedele. Ma il motivo alla base di questa cospirazione va al di là di un semplice desiderio di vendetta. Fikret, animata da profondi risentimenti e da ferite mai rimarginate, aspira a un risultato ancora più ambizioso. Vuole che Umit s'educa e conquisti Demir, ingannandolo e coinvolgendolo in una rete di menzogne prima che Zuleya possa realizzare quello che sta accadendo. Ma mentre questo intricato gioco di potere e manipolazione si sviluppa nell'ombra, in un altro angolo della storia, la tensione sta raggiungendo livelli critici. Demir e Behice, due forze contrastanti, sono ora in una situazione di crescente attrito. La recente decisione di Behice di trasferirsi nella villetta, esercitando il suo potere e la sua influenza per allontanare Gulten e Cetin, ha aggiunto un altro strato di complessità alla situazione. Demir, completamente all'oscuro della mossa di Behice, si trova di fronte a una sorpresa sconvolgente quando scopre le recenti azioni della donna. Cercando risposte e chiarimenti, si rivolge a Gaffur, un personaggio chiave nella rete di relazioni che legano i protagonisti. Ma ciò che Demir trova non è l'alleato su cui contava. Gaffur, in un apparente cambio di lealtà, sembra ora operare sotto l'influenza e il controllo di Behice. La trama si complica ulteriormente, poiché ogni mossa e decisione ha ripercussioni che influenzano l'equilibrio dei rapporti tra i personaggi. Con così tante dinamiche in gioco, il futuro è incerto e la storia promette sviluppi imprevedibili e colpi di scena mozzafiato. Il cuore della trama ruota attorno a Mushgan, che, ferita e delusa, decide di isolarsi dopo aver compreso la vera natura di Behice. Quest'ultima, venendo a sapere che Mushgan si considera ormai sola, va all'ospedale per comunicarle che ora possiede la villetta in cui vivevano Cetin e Gulten, i quali si erano sposati solo da tre giorni. Ma Mushgan, amareggiata, non riesce a comprendere pienamente le ripercussioni delle sue azioni. Si lascia andare a confessioni intime, rivelando di aver creduto che Behice la amasse davvero. Tuttavia, ora riconosce che Fekeli aveva ragione. Behice è egoista e preoccupata solo per se stessa. Mentre la tensione aumenta, Fekeli, con la sua consueta saggezza, si avvicina a Mushgan, rassicurandola che non è sola. Promette di proteggerla come farebbe un padre, una promessa che tocca profondamente Mushgan, facendola sentire meno isolata. Questa relazione padre-figlia tra i due è fortemente enfatizzata e sottolinea l'importanza delle connessioni familiari nel telefilm. Nel frattempo, Rasit fa la sua apparizione portando un regalo, scatenando ulteriori tensioni con Fadik e Sanie. Rasit tenta di giustificarsi riguardo alla sua misteriosa assenza durante le nozze, ma le sue spiegazioni sembrano tardive e inadeguate. Una delle scene più intriganti riguarda Behice, che minaccia Gaffur di denuncia per furto, mettendolo in una difficile posizione. Il mistero si infittisce quando veniamo a conoscenza delle investigazioni del detective Sadi sull'omicidio di un personaggio chiave. Behice emerge come una figura controversa, con un passato oscuro e sospetto. Parallelamente, la vita di Cetine e Gulten prosegue nella loro nuova abitazione. Fecheli, con grande affetto, offre loro di vivere nella villa con lui. Tuttavia, Gulten, valorizzando l'indipendenza e il duro lavoro, rifiuta gentilmente l'offerta. Questo particolare scambio riflette la profondità delle relazioni familiari e le tensioni sottostanti che pervadono la narrazione. L'episodio si chiude con una scena misteriosa. Mentre Nazireh prepara la cena, Fikret rivela di avere un impegno importante e si allontana precipitosamente, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e desiderosi di saperne di più. La situazione degenera quando Demir attacca Ghaffur fisicamente e lo mette in guardia. Il conflitto si intensifica con l'entrata di Mushgan, che cerca di mediare tra le parti in conflitto. Nel frattempo, Zuleya viene a sapere della nuova residenza di Behice e la tensione tra i due gruppi raggiunge un picco. La puntata si conclude con ulteriori rivelazioni riguardo al fondo di 30 milioni di lire e le implicazioni che esso potrebbe avere per il futuro di Care e Mali. Con tante trame intrecciate e relazioni tese, la puntata promette ulteriori sviluppi e colpi di scena. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni di terra amara.